Rita di Algello Livorno, questa mattina viene inaugurato l'approdo, è un centro di ascolto contro la discriminazione sessuale. Siete contenti di questa apertura e se ce n'era bisogno a Livorno? Siamo contentissimi di questa apertura grazie a un bando UNA e quindi abbiamo potuto fare l'apertura di questo centro contro le discriminazioni per l'orientamento sessuale e identità di genere e a Livorno ce n'è assolutamente bisogno, ma non solo a Livorno, è una questione proprio sociale, quindi fare formazione e informazione ed aiutare le persone discriminate e quindi perché si sentano se stessi senza essere emarginati e sentirsi di persone di serie B e quindi c'è assolutamente bisogno per le persone sia per quanto riguarda la libertà di genere, quindi persone trans-gender sia per l'orientamento sessuale, gay, lesbiche e bisessuali.